pace bene cari amici ben trovati in questa 32esima domenica meditiamo sul testo di luca 20 27 38 un testo che ci parla di risurrezione ecco siamo quasi alla fine dell'anno liturgico e la chiesa ci aiuta a riflettere sulle realtà ultime quali morte giudizio vita eterna tutto ciò affinché guardando dove siamo diretti e contemplando la nostra vita da una giusta prospettiva possiamo convertirla con l'aiuto di dio sempre più e riorientarla al meglio oggi in particolare gesù rispondendo a una domanda assurda dei farisei mette in luce come vive una persona che crede nella risurrezione ci dà un assaggio di come saremo nell'eternità e fonda la verità della risurrezione su dio stesso quindi vediamo in particolare questi tre punti anzitutto abbiamo i sadducei che erano un gruppo giudaico appartenente all'aristocrazia sacerdotale che non credevano nella risurrezione ecco loro non credevano nell'esistenza degli angeli degli spiriti nella risurrezione professavano una fede nel pentateuco nella legge diciamo e vivevano così orientati soprattutto al vivere bene qui e ora loro partendo da una legge data da mosè che serviva a custodire la donna e la famiglia questa legge prescriveva che se un uomo moriva sposato ma senza figli la moglie dovesse essere presa in sposa da uno dei fratelli e ricevere avere una discendenza a partire da questo inventano una storia assurda una donna che viene presa in moglie da sette fratelli tutti e sette muoiono appena la sposano senza darle figli è incredibile proprio dire testo degno di alfredi hitchcock e dire poco come a volte si può banalizzare anche la vita la domanda che pongono a gesù è ma questa donna nel cielo di chi sarà moglie oltre al trabocchetto qui che concezione c'è dietro quella di pensare al massimo la risurrezione come una prosecuzione di questa vita anche oggi c'è chi non ci crede proprio alla risurrezione vive unicamente orientato alle cose di questo mondo con orizzonte conclusivo della vita con la morte c'è chi crede che dopo ci sarà qualcosa ma che tutto ciò non ha incidenza alcuna su questa vita che ne pensa gesù la sua risposta è illuminante anzitutto ci aiuta a capire come vive una persona che crede nella risurrezione e dice i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di dio con questa risposta gesù non sta denigrando il matrimonio ne sta dicendo che se uno crede non si deve sposare sta rispondendo all'esempio che hanno fatto i sadducei e sta illuminando la situazione esistenziale di chi crede perché vedete il primo punto è credere che gesù è risorto non significa solo credere che beato lui lui è risorto ce l'ha fatta noi siamo qui a remare come disgraziati no vuol dire accogliere nella nostra vita la sua risurrezione vuol dire fare esperienza della sua vita risorta in noi la vita eterna per noi cristiani non è solo la vita dopo la morte la vita eterna è la vita stessa di dio di cui già ora egli ci rende partecipi con il battesimo siamo stati innestati in lui e alimentiamo in noi la sua presenza con la preghiera con i sacramenti dunque aprirsi alla risurrezione vuol dire vivere già ora una vita nuova una vita risorta e qual è il segno che uno vive una vita risorta cioè cosa cambia nella nostra vita lo spiega gesù con le sue parole cioè non si vive più secondo la logica del possesso i figli di questo mondo prendono quindi c'è un prendere un possedere prendono moglie e prendono marito cioè vivono le cose in funzione di se stessi vivono tutto per realizzare i loro schemi i loro progetti per possedere affinché non gli manchi nulla spesso e volentieri si vivono relazioni ad uso e consumo e appena una cosa comporta sofferenza la si lascia perché perché bisogna pagarsi in tutto non bisogna farsi mancare nulla perché sia come orizzonte ultimo la morte e non essendoci la presenza di dio nella nostra vita non c'è accogliere le cose come un dono come una vocazione c'è il possedere l'inventar mio da solo la vita quindi i figli di questo mondo prendono prendono moglie prendono marito fanno tutto secondo i loro schemi i loro disegni ma quelli che sono giudicati degni della vita future della risurrezione non prendono infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli cosa ci sta dicendo qui gesù cosa vuol dire essere uguali agli angeli l'angelo chi è è uno spirito certo ma l'angelo dire angelo significa dire una vocazione l'angelo cioè è un messaggero è un messaggero di dio ha una funzione quindi è un inviato di dio cioè una persona che accoglie il signore e vive da risorto vive la vita come una missione cioè non vive prigioniero dei suoi schemi delle sue voglie di fare come gli passa per l'anticamera del cervello ma vive la vita come un dono come una missione aperta ad una relazione con colui che lo ha mandato per essere concreti altro è sposarsi ad esempio perché ho paura di restare solo perché voglio saziare la mia fame affettiva altro è sposarsi soltanto sull'onta dell'entusiasmo o perché quella persona mi piace altro è sposarmi perché io ho capito che quella è la persona che dio mi ha messo accanto e a monte ancora altro è partire in quarta e decidere io la mia vocazione basandomi unicamente su ciò che mi passa per la testa altro è cercare di capire il disegno di dio sulla mia vita perché possa essere realizzata pienamente e ancora ritornando al matrimonio altro è vivere un matrimonio fondato sulle mie forze sulla mia presunta capacità di amare altro è fondarmi su di lui e vivere del suo amore ed è celebrare un matrimonio come via al cielo dove al centro c'è dio allora vedete qui gesù ci parla di una realtà di una condizione esistenziale che già ora cambia e quando uno accoglie il signore arriva a vivere la vita come un dono e se il signore lo chiama a non sposarsi perché lo chiama a seguirlo radicalmente cioè a fare di dio il suo tutto e a donarsi a tutti a vivere in un certo modo già ora come saremo in cielo quando in dio ci ameremo tutti indistintamente non ci sarà più bisogno in cielo del matrimonio che è una realtà santa legata a questa vita bene se il signore chiamasse qualcuno a consacrarsi arrivi anche a dirgli di sì perché perché accoglie la sua vita che è donata interamente a te e in lui diventi capace di donare anche la tua per tutti gli altri e anticipare così già ora sulla terra ciò che saremo in cielo allora che bello vedete accogliere la risurrezione vuol dire già vivere ora una vita redenta poi in cielo sarà una vita trasfigurata gloriosa ecco san paolo usa un'immagine quella del seme della pianta come saremo in dio in pienezza non possiamo esprimerlo perché è una categoria che non ci appartiene ma guardate una quercia enorme bellissima maestosa da cosa è partita da un semino caduto a terra marcito morto e rifiorito ecco la vita che dio ha sognato per i suoi figli una vita trasfigurata bella gloriosa che inizia già qui e più camminiamo con gesù più veniamo liberati dal nostro egoismo e diventiamo capaci di fare della nostra vita un capolavoro d'amore infine terzo e ultimo punto gesù fonda la verità della risurrezione sulla scrittura stessa nella quale sadducei dicevano di credere dice dio è il dio dei vivi non è il dio dei morti è il dio di abramo di isacco e di giacobbe abramo isacco e giacobbe erano vissuti centinaia di anni prima ma dio continua a essere il loro dio perché in dio continuano a essere viventi dio amante della vita dopo la morte non distrugge nessuno la vita è ormai eterna certo dopo la morte ognuno riceverà il giudizio l'anima si presenterà al cospetto di dio e ognuno verrà giudicato ma dio amante della vita non distruggerà nessuno è il dio fedele che rispetta fino in fondo la libertà delle sue creature ma alle quali ormai ha donato la vita e l'ha donata per sempre allora chiediamo la grazia al signore di riorientare bene la nostra vita affinché vivendo già ora partecipi della sua risurrezione possiamo arrivare a fare della nostra vita un dono a vivere anche la morte come atto ultimo di donazione come incontro con l'amore che ci viene a chiamare per essere così un giorno partecipi in cristo della sua beatitudine eterna certi di ciò che lui ci ha detto chi crede in me anche se muore vivrà pace e bene e buon cammino a tutti